Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il campionato quest'anno non dorme mai, infatti si è appena conclusa una giornata che ne sta già per iniziare un'altra. Fatemi sapere qua sotto come è andata la vostra giornata di fantacalcio. Se avete vinto, perso oppure pareggiato raccontatemi aneddoti, tutto quello che volete qua sotto. Il mese di marzo sarà un mese veramente intenso sia calcisticamente che fantacalcisticamente. Si inizia già domani con un turno intrasettimanale e si finisce con la pausa per le nazionali. In tutto saranno 4 incontri che saranno determinanti per alcune situazioni della classifica. Andremo ad analizzare squadra per squadra su quali giocatori è meglio puntare per il mese di marzo, quali è meglio invece evitare e quali potrebbero essere delle sorprese, delle scommesse, magari dei nomi poco noti che però potrebbero fare bene e aiutarci nei nostri fantacalcio. In questo video vedremo la seconda parte della classifica, mentre nel video che usci ha domani analizzeremo le squadre della prima parte della classifica. Io prima di iniziare ti invito sempre a spaccare il tasto dei like, a iscriverti al canale e ad attivare la campanella per questi ed altri contenuti. E adesso iniziamo! Ciao, sono Federico Viglino e questo è Profantacalcio. Iniziamo dal scontro della classifica e analizziamo il Trottone, una delle squadre meno in forma del momento. Infatti sono numerose anche le voci di un possibile esonero del tecnico, Stroppa, e i calabresi hanno appena perso lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il cammino per quanto riguarda il mese di marzo non è affatto facile e vedrà la squadra del Trottone affrontare Atalanta, Torino, Lazio e Bologna. Sinceramente il loro destino mi pare ormai segnato, ormai è molto probabile che il Trottone quest'anno retroceda, perciò a livello di fantacalcio vi invito a puntare su quei giocatori che facendo bene e mettendosi in mostra possono attirare su di sé lo sguardo di club più blasonati per la prossima stagione. Il giocatore più in forma in questo momento è sicuramente Unas, mentre vi sconsiglio di utilizzare il reparto difensivo del Trottone e anche Simi, ormai scivolato nelle gerarchie del tecnico. Una squadra che invece sta lentamente cercando di ritrovare se stessa è sicuramente il Parma di D'Aversa che dovrà vedersela nei prossimi incontri contro Inter, Fiorentina, Roma e Genoa. I giocatori che in questo momento considero più in forma e che potrebbero fare bene anche nel mese di marzo sono Pezzella, ovviamente Giuseppe, e anche Kuczka, anima di questo Parma. Eviterei invece di puntare su Conti, che abbiamo visto essere un 5 fisso, e su Gervinio, che ha qualche problema fisico oltre che qualche screzio con tecnico e società. Una possibile sorpresa è invece il giovane rumeno Mihaila che potrebbe trovare più spazio nei prossimi incontri e far vedere il proprio talento. Semplici ha iniziato la sua avventura a Cagliari nel migliore dei modi, vincendo lo scontro diretto salvezza contro il Crotone e perciò dando una forte iniezione di fiducia a tutto l'ambiente. Nelle prossime partite il Cagliari dovrà vedersela con Bologna, Sampdoria, Juventus e Spezia. Un percorso che ci dirà molto sul reale impatto del nuovo tecnico sulla formazione sarda. I giocatori da me consigliati per il mese di marzo sono Rugani, che sta facendo bene appena tornato in Serie A, Pavoletti, che sembra rigenerato con l'arrivo del nuovo tecnico, e anche Gior Pedro, tornato al gol e seconda punta ideale per questo Cagliari. Mentre non ho buone sensazioni per quanto riguarda Simeone, relegato in panchina in questa prima uscita con Semplici e secondo me meno adatto di Pavoletti al gioco del tecnico. Una possibile sorpresa è invece Asamoah, che potrebbe ritagliarsi sempre più spazio sulla corsia sinistra cagliaritana. Parliamo ora del Torino, una squadra che potrebbe vedere il mese di marzo fortemente compromesso dalla situazione Covid. Vi ricordo che i nomi dei positivi al Covid non sono stati resi noti, ma che dovrebbero essere, e prendete questo dato con le pinze, un culù, Bremer, Buongiorno, Singo, Murru, Baselli, Linetti e infine il Gallo Velotti. Capite bene che con metà formazione titolare positiva al coronavirus, una volta che il Torino sarà abile a tornare in campo, sarà veramente come una nuova ripartenza, un po' come è stato per il Genoa mesi fa. Le prossime partite dovrebbero essere quelle contro Lazio, Crotone, Inter, il recupero con in Sassuolo e infine la Sampdoria, ma è molto probabile che alcune di queste partite vengano rinviate e perciò, vista la situazione nel complesso, non mi sento di consigliarvi o di non consigliarvi giocatori in particolare, ma vi consiglio di monitorare bene la situazione. Una delle squadre di rivelazione di questo campionato è sicuramente lo Spezia d'Italiano che dovrà vedersela nelle prossime partite contro Juventus, Benevento, Atalanta e Cagliari. Per il mese di marzo vedo molto bene Ricci, Maggiore e anche il rientrante Nzolà pronto a dare nuova profondità al gioco d'Italiano, mentre sconsiglierei Saponara e Pobega che hanno anche qualche problemino fisico e anche Vignali che non dà abbastanza garanzie sull'out di destra. Piccola scommessa invece il difensore centrale Ismaili che sembra aver preso i gradi di difensore titolare dello scacchiere d'Italiano e potrebbe fare bene. Roma, Parma, Benevento e Milan sono invece le prossime avversarie della Fiorentina di Prandelli che vede due scontri diretti e due partite più impegnative per questo mese di marzo. Potrebbero fare molto bene in questo periodo Martínez Quarta, il difensore che sembra aver trovato finalmente una sua dimensione all'interno della Fiorentina e anche Ribéry, infortuni permettendo può essere la marcia in più della Viola, mentre vi sconsiglierei sia Pulgar che Amrabat. Un giocatore che invece potrebbe sorprendere in positivo è Malquit preso dal Napoli per dare più profondità, più attacco della fascia sulla destra e potrebbe finalmente giocare di più in questa Fiorentina. Passiamo ora a parlare del Benevento di Inzaghi che dovrà vedersela contro Verona, Spezia, Fiorentina e Juventus. Un giocatore consigliato su tutti è sicuramente Nicolas Viola, molto abile negli inserimenti ma che garantisce anche una buona costanza di rendimento, mentre non vi consiglio sia in prota qualche guaglio fisico di troppo per lui che De Pauli. Un terzino che invece dovrebbe fare bene, che appena ha tornato, che potrebbe rendere sulla falsa riga di quanto ha reso nel Girona di Andata è Letizia. Attenzione su di lui, magari non da subito, ma ben presto potrete tornare a schierarlo titolare. Sampdoria, Roma, Udinese e Parma sono invece le avversarie del Genoa di Ballardini, una delle squadre più in forma del momento nonostante l'ultima sconfitta contro la Capolista. Alcuni dei giocatori che vedo molto bene per questo mese appena iniziato sono Perin, Criscito, rigorista e perciò va schierato e anche Badeli, ormai vero metronomo della squadra. Non punterei invece granché su Radovanovic mentre la mia scommessa per questo mese è Goran Pandev che può portare attraverso la sua esperienza qualche gol inaspettato ed essere decisivo in più di una situazione. D'altronde non per niente è uno dei pupilli dell'allenatore stesso, ossia di Ballardini. L'Udinese dovrà vedersela in questa parte della stagione contro Milan, Sassuolo, Genoa e Verona. Un percorso abbastanza ostico. Come non menzionare sugli scudi ovviamente Nuitink e De Paul mentre eviterei di puntare troppo su Striegel Larsen apparso un pochettino più in ombra rispetto alla scorsa stagione e anche su Llorente. Da lui mi aspetterei un gol prima di tornarlo a schierare. Un giovane invece da tenere d'occhio è Braff, un giocatore molto veloce e dall'ottimo potenziale potrebbe tornare utile non solo a Mister Gotti ma anche a noi fanclinatori. Perciò attenzione teniamolo d'occhio. Ultima squadra che vedremo in questa prima parte del video è il Bologna che dovrà vedersela contro Cagliari, Napoli, Sampdoria e Crotone. La squadra di Mihailovic sta vivendo un buon momento di forma e i giocatori consigliati per questo mese sono Sumarò, Soriano, Sansone e Barrow. Lascerei invece per tempi migliori le performance di Tom Yasu ai box anche per un infortunio e di Palazzo scivolato indietro nelle gerarchie del mister. Un nome invece a sorpresa per questo marzo è Mbaye, tornato in campo dopo diverso tempo e grazie alla buona performance potrebbe dare continuità ai suoi minuti in campo. E tu cosa ne pensi dei giocatori da me citati? Vuoi parlare nello specifico di qualche giocatore in particolare? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Io come sempre ti invito a lasciare un like, iscriviti al canale ed attivare la campanella e noi ci vediamo domani per la seconda parte dei giocatori consigliati per marzo 2021.